I finanzieri di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziari a carico di tre indagati in relazione ad una frode fiscale perpetrata tramite l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro ha interessato somme di denaro giacenti su 10 conti correnti e un complessivo di 14 immobili nella provincia di Vicenza. Le indagini si sono concentrate su un imprenditore di nazionalità indiana residente nella provincia vicentina intorno al quale gravitano numerose imprese operanti nel settore del volantinaggio su strada. La finanza parla di un collaudato schema di frode con cui l'imprenditore riusciva a gestire di fatto tramite soggetti prestanome connazionali due dita individuali del tutto sovrapponibili per organo di gestione oggetto principale dell'attività contro parti commerciali e lavoratori dipendenti. La prima impresa definita come società cartiera avrebbe accumulato debiti erariali e prima di cessare la propria attività avrebbe emesso a beneficio della seconda azienda fatture per operazioni inesistenti per oltre 350 mila euro. La procura di Vicenza ha dunque deferito all'autorità giudiziaria due persone, ovvero i titolari delle due ditte per i reati ipotizzati di emissione, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o messe a dichiarazione, contestati in concorso con l'imprenditore indiano in qualità di amministratore di fatto di entrambe le società.